Benvenuti al secondo passo per lo Smart Manufacturing in cui parleremo della rete comunicazione unica CC-Link ETSN che è la risposta alle esigenze della fabbrica digitale. TSN che è la sigla per Time Sensitive Networking in accordo alle specifiche IE 802-1-S specifica determinismo sulla rete Ethernet tradizionale. In questo modo è possibile gestire traffico dati in real time per applicazione di controllo e motion insieme a trasferimenti dati di monitoraggio basati su TCP. La rete è aperta e le specifiche del protocollo sono disponibili attraverso il consorzio CLPE. È possibile sviluppare interfacce a 1 gigabit o a 100 megabit sia di tipo hardware tramite il chip dedicato o attraverso lo stack del protocollo. Mitsubishi Electric ha sviluppato l'interfaccia per il PLC, il MERSECA IQR, gli AIO remoti e device delle linee motion, inverter, HMI e robot. Le prestazioni della rete sono svalorditive, il tempo di scansione minimo è 31,25 microsecondi. In questo modo è possibile ottenere delle prestazioni di altissimo livello nella sincronizzazione di ASSI grazie alla nuova serie MRJ5 e agli inverter dalla famiglia FR800. La rete CC-Link ETSN supporta anche la gestione della safety verso gli AIO e gli azionamenti consentendo di ridurre la complessità dei cablaggi per realizzare sicurezza intrinseca su macchine e impianti. In questo modo Mitsubishi Electric ha potenziato la propria piattaforma di automazione. Grazie alla rete CC-Link ETSN possiamo ottenere il massimo delle prestazioni su rete Ethernet standard. Grazie, alla prossima in cui parleremo di livello Edge Computing. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.